bike channel porta nelle case di tutti i clienti sky il grande ciclismo domenica 29 marzo non perdere live in esclusiva le immagini della gandwe belgem una classica delle fiandre vinta in passato da campioni come merckx bonen e cipollini chi riuscirà a scalzare dal trono il tedesco john dagenkold gandwe belgem domenica 29 marzo live su bike channel grazie